Talento e intraprendenza sono le doti principali che hanno fatto di Benje Fede il nuovo fenomeno della musica giovane italiana. Una collaborazione nata dal mondo virtuale e sui social, sfociata in un grande successo che sta portando i due ragazzi di Modena a scalare le vette nazionali. Negli studi di Radio Norba, ospiti del programma DJ per un giorno, hanno raccontato la loro storia, i sogni e i progetti di vita. Ci volete raccontare un po' la vostra storia? Allora, tutto è iniziato alle 20.05 di qualche anno fa, perché in quel momento, quella sera lì alle 20.05, Fede mi ha mandato un messaggio chiedendomi di fare una band. Me l'ha mandato su Facebook, perché aveva visto dei miei video in cui suonavo su YouTube, lui mi ha mandato dei video in cui cantavo in cameretta e mi è piaciuto molto, quindi mi hanno deciso di iniziare un percorso insieme. Poi io sono partito per l'Australia, quindi cosa è successo? Abbiamo iniziato a lavorare a distanza, io scrivevo le canzoni in Australia, gliele mandavo in Italia, lui dall'Italia le cantava e me le rimandava. Ma che cosa avevi intravisto in lui? Allora, avevo intravisto una personalità molto, molto, molto simile alla mia. Il ciuffo, sicuramente. Il ciuffo, e poi lo vedevo molto simile a me come musicalità e il modo in cui magari scriveva le canzoni. E quindi ho detto, perché non tentare questo percorso insieme? Così è stato e ora siamo qua. L'album è uscito appunto venerdì, è 20.05 e adesso stiamo girando un po' tutta l'Italia, andando in tante città. Oggi saremo a Bari, poi comunque faremo tante altre tappe e presentiamo il disco alle persone che ci seguono. Possessionati dalla paura degli altri che poi gli altri sono uguali a te.